Ciao a tutti, come trovare l'amore della tua vita? Intanto devi tenere presente un fatto fondamentale, che devi credere che esista l'amore della tua vita, perché tutto ciò che non crediamo non troviamo. Se un concetto non passa nella nostra testa, se non ci entra dentro la testa, non entra da nessuna parte, non riusciremo a trovare l'amore. Quindi questo è un fatto fondamentale. Prima cosa, credere di meritarcelo l'amore e di credere che esista l'amore della nostra vita. Poi la vita può riservarti delle sorprese, può finire, ma ne troverai un altro, perché l'amore è l'amore, non devi identificarlo con una persona specifica. Noi dobbiamo darci come obiettivo quello di trovare l'amore. Non dargli nome e cognome, perché se tu gli dai nome e cognome rischi di fallire, perché non è detto che quello sia la persona giusta. È come se tu dai all'universo un input, dai all'universo delle situazioni, e poi quelle situazioni non sono quelle giuste. Quindi la cosa peggiore che puoi fare è dare un nome e cognome all'amore. Non devi dargli un nome e cognome, non serve, è inutile, è negativo, è nefasto. Devi dargli semplicemente un input. L'input mentale è quello che pensare, semplicemente far scendere a livello profondo il pensiero che l'amore della tua vita esiste, che tu ti meriti di viverlo e che lo trovi. È questo quello che devi fare. E poi devi andare a agire. Una volta che hai espresso questo desiderio all'universo, non hai più da fare niente. Basta che non ti fai le paranoie e che non ti fissi. No, voglio Marco, no, voglio Francesca, voglio Roberto, voglio qua, voglio là. Non va bene questo. Perché troverai la persona sbagliata poi. Per trovare la persona giusta tu devi concentrarti poi sulle sensazioni che provi. E devono essere sensazioni positive. Se le sensazioni che provi sono negative, vuol dire che quello non è l'amore della tua vita. Vuol dire che quello è una ciofeca. Devi lasciar perdere. Dobbiamo avere la forza di promuovere tutto ciò che ci dà piacere. Dobbiamo avere la forza di promuovere tutto ciò che ci fa star bene. E dobbiamo avere la forza di abbandonare tutto ciò che ci fa star male. Questa è l'unica regola che devi utilizzare se vuoi trovare l'amore della tua vita. La convinzione interiore. La realtà esterna che andiamo a sperimentare è frutto della realtà interna. Quindi se tu non cambi dentro, se non cambi le convinzioni che hai dentro, le convinzioni profonde che hai dentro, non riuscirai a ottenere niente. Non riuscirai a ottenere niente e soprattutto non riuscirai a vivere ciò che è importante. Perché tutti meritano di vivere l'amore che desiderano. Poi l'amore può essere vissuto in una forma piuttosto che un'altra. Questo non è importante. Ma l'importante è quindi che se tu cambi le tue convinzioni interne, il tuo atteggiamento verso la vita, la vita cambierà l'atteggiamento verso di te. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscriviti al canale, lascia i commenti qua sotto, metti un like e condividi questo video con i tuoi amici. Ciao!